Siamo a Termini e stiamo andando a Terminera Metro per andare ad Ostia. E niente, fra poco faremo una cosa carina che vedrete, spero vi piaccia. Stiamo facendo la superposta per Davide, dato che abbiamo perso il trasporto per Fiumicino, siamo due di siaggiate, lo so, e mi sono tanto truccata anche. E niente, la superposta di Davide è questa che adesso vi farò vedere. Grazie a tutti. Stiamo aspettando Sergio che si deve muovere per andare al gauche. Stiamo andando al gauche ed è il disagio perché stiamo contro mano e le macchine si stanno ammazzando. salutate? Ciao! E niente, quindi, oddio ho l'ansia. con il caperone nero. Davide? Ecco il legato. Mi sa stanno andando. Ah, ecco! con un Harlem Shake nella palestra di basket. E da lì ti faccio una buona passione da fare il miglio con lo suo sacco di genere, con con il popio. E da lì ti faccio una buona passione da fare il miglio con lo suo sacco. E da lì ti faccio una buona passione da fare il miglio con lo suo sacco. E da lì ti faccio una buona passione da fare il miglio con lo suo sacco. E da lì ti faccio una buona passione da fare il miglio con lo suo sacco. No, io al massimo 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 Al massimo